Nord del Giappone, ore 5 e 59 minuti, ora locale, la terra trema. Una scossa di magnitudo 7,4 sulla scala Richter. Ad essere colpita dal sismo è ancora una volta la prefettura di Fukushima, luogo simbolo delle ferite inflitte dal terremoto e delle fragilità del nucleare. L'attività del reattore numero 3 della centrale atomica è stata sospesa per un'ora e trenta. L'allerta tsunami immediatamente diramata è poi stata ridimensionata, onde di un metro e mezzo circa sono arrivate sulla costa nord-orientale del paese senza creare difficoltà significative. L'epicentro del terremoto è stato registrato a circa 10 chilometri di profondità sotto la superficie terrestre, una situazione eccezionale che tuttavia le autorità nipponiche sono in grado di gestire in termini di calma relativa. Un ordine di evacuazione immediata ha interessato circa 10.000 persone, il terremoto ed il conseguente tsunami del 2011 avevano ucciso oltre 18.500 persone e causato la catastrofe nucleare di Fukushima.